Sono stato un anno per il suo lavoro Di metà tenami adoro Olo mi può fare una amica Olo mi dico a tutti Certo 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 Sono qui per i comuni e i Ulo e i suoi passaggi Olo A me è quello un anno Ma perché il nostro donatore è il patato Il suo lavoro è il patato Il loro uno Se la forma passata Ma due giorni Ima abbiamo le nami Dei otto nami Ciò che è un'attueta Ma te ne vado Grazie per la visione 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti